Il cristiano ha due parametri per non diventare tiepido, la memoria e la speranza. Con queste parole Papa Francesco ha invitato tutti a non perdere il coraggio e l'entusiasmo del primo amore, del primo incontro con Gesù, che non delude mai. Celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta, il pontefice ha sottolineato che anche nei momenti più bui il cristiano è chiamato ad essere faro nella notte, contro ogni abbattimento. La memoria è tanto importante per ricordare la grazia ricevuta, perché se noi cacciamo via questo entusiasmo che viene dalla memoria, del primo amore, questo entusiasmo che viene dal primo amore, ma viene quel pericolo tanto grande ai cristiani, il tepore, i cristiani tiepidi. Ma stanno lì, fermi. Sì, sono cristiani, ma hanno perso la memoria del primo amore. E sì, hanno perso l'entusiasmo. Anche hanno perso la pazienza, quel portare, quel tollerare le cose della vita con lo spirito dell'amore di Gesù, quel tollerare, quel portare sulle spalle le difficoltà. E i cristiani tiepidi, i poverini, sono in grave pericolo, no?